Sport e Natura è il binomio vincente del decimo trofeo di pesca a San Teodosio organizzato anche quest'anno in località Veddana a Pietragalla in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono. La manifestazione si inserisce infatti nell'ambito del programma previsto per l'importante ricorrenza a promuovere l'iniziativa all'Associazione Pesca Sportiva di Pietragalla che è riuscita a coinvolgere una trentina di partecipanti. Sono state circa 250 le trote liberate nel torrente rosso e di queste oltre 100 sono rimaste liberi. La novità di quest'anno è il trofeo Juniors per i più... Questa manifestazione si è arrivata alla decima edizione quest'anno, oltretutto quest'anno abbiamo organizzato anche una gara attivante le nuove leve, quindi il settore Juniors. Spero che per i prossimi anni chi mi seguirà in termini di presidenza possa portare avanti questa manifestazione come è stato fatto da Adigiani a questa parte. I festeggiamenti per San Teodosio proseguono con un ricco programma che coniuga l'aspetto religioso, culturale e ludico della ricorrenza. Grazie. 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 Grazie.